Claudia Martini per Arezzo Web Informa, siamo con la Presidente regionale di ConfCommercio Anna Lapini. Il mercato internazionale è giunto alla quindicesima edizione con tante novità quest'anno. Sì, la novità è proprio la sostenibilità, un mercato che è più attento all'ordine, al rigore, all'igiene, alla pulizia delle strade, quindi attento all'ambiente e al territorio e appunto libero dalla plastica. La novità è che tutti gli anni si potenzia sempre di più questo giro del mondo, del gusto, delle tradizioni, delle culture diverse di tutto il mondo. E poi il mercato da sempre è un luogo dove venditori e compratori si mescolano per contaminarsi di tutte le novità e devo dire che il mercato internazionale ci riesce molto bene. Un traguardo decisamente importante con dei successi sempre crescenti. Sì, 15 anni di successo. Io devo dire che mi è capitato di incontrare molte persone, ma anche amici miei, che addirittura aspettano, lo dico sempre, il mercato internazionale per riempire le loro dispense, da usare poi nell'arco dell'anno, per accogliere l'artigianato, i fiori. È un appuntamento veramente atteso dalla città. Siamo con Gianluca Rosai, responsabile eventi di ConfCommercio. Quest'anno il mercato internazionale che sta per partire è giunto alla quindicesima edizione. Sì, arriviamo a spegnere le quindicesime candeline. Un grande ritorno per il mercatissimo che quest'anno cambia data, secondo weekend di ottobre per andare incontro alle esigenze anche di altri eventi in contemporanea. Quindi 11, 12, 13 ottobre torna al mercato internazionale con tutti i suoi stand, i suoi colori e le sue tradizioni dal mondo. Quali saranno le novità di questa edizione così importante? Sono molte. A cominciare appunto dalla data, 11, 12, 13 ottobre. A cominciare dal Plastic Freak, che è un'introduzione di quest'anno, una novità assoluta. È la prima volta dopo 15 anni che il mercato si amplia ad un reciclo, a un riuso e soprattutto a posate e bicchieri plastic free. Ad un manuale che abbiamo introdotto come ConfCommercio legato appunto all'impresa alimentare. Quindi tutti i nostri operatori saranno dotati di questo manuale e faranno un corso all'interno proprio della ConfCommercio prima dell'evento per poter essere in regola con tutte le appunto licenze alimentari. E poi il grande mercato senza confini. Oltre 300 stand, 150 dal mondo. la presenza forte di operatori locali. Insomma, un grande mercato senza confini. Anche quest'anno numeri importanti. L'inaugurazione l'11 ottobre. Un'inaugurazione che avrà forse una sorpresa. Si può rivelare qualcosa? Sì, proprio per omaggiare i 15 anni del mercato. Spegneremo idealmente queste 15 candeline e poi nei prossimi giorni appunto svelieremo questa grande sorpresa. Però invito tutti a prendere parte all'inaugurazione e a partecipare al mercato. Siamo con il Presidente della Camera di Commercio. È importante il contributo dell'ente a questa manifestazione che richiama così tante persone ad Arezzo? Sì, la Camera di Commercio è sempre a fianco degli organizzatori, delle associazioni di categorie, soprattutto delle imprese che si mettono in gioco e sono presenti in questa vetrina, in questa ribalta internazionale che viene arricchita e valorizzata dalla presenza di questi espositori che ormai sono diventati dopo 15 anni anche un punto di riferimento per un occhio sul mondo. Quindi un interesse maggiore per i visitatori, ma soprattutto perché affiancando le nostre produzioni ci sono presenti anche quasi un centinaio di espositori italiani e molti arretini e ovviamente hanno la possibilità di essere toccati con mano dai visitatori che credo vivranno Arezzo e la città di Arezzo completamente in questi tre giorni che appunto sarà il centro di un'attenzione davvero particolare. Importante strumento quindi di valorizzazione anche dell'imprenditoria locale, una vetrina? Sì, ovviamente noi abbiamo produzioni importantissime sul nostro territorio che hanno sempre un occhio particolare alla qualità, alla tracciabilità e quindi alla qualità comunque in generale. Sapere che vengono ovviamente affiancate, supportate e tutti insieme ovviamente facendo squadra ovviamente possono, ripeto, accrescere il loro valore da altri, da questi espositori, queste produzioni che arrivano da tutto il mondo. Sono 35 paesi che saranno presenti anche in questa edizione. Ovviamente servono ad accreditare in modo ancora migliore quelle che sono già eccellenze e sono già dei punti di riferimento riconosciuti del territorio. Ecco, fare squadra sul territorio è una formula vincente quindi? Sempre dobbiamo pensare che vengono coinvolti non solo i produttori locali, viene coinvolto il turismo, viene coinvolto l'artigianato perché molte sono produzioni, ad esempio, nell'agroalimentare, molte produzioni artigianali. Quindi ci sono tutti i settori che vengono coinvolti, ovviamente c'è tutto un territorio che accoglie, che riceve, quindi non possiamo pensare che possano esistere degli eventi che sono completamente scevi da un contesto molto più ampio. Quindi tutte le categorie sono coinvolte, tutte sono chiamate a partecipare. La Camera di Commercio, facendo sintesi di tutto questo, è convintamente a fianco di iniziative come queste che sono davvero sempre più centro e diventano attenzione appunto di una vetrina sempre più ampia. Grazie. Prego, grazie. Con l'assessore Marcello Comanducci, il Comune dà il patrocinio ancora una volta, questa importante manifestazione. Sì, ormai è una manifestazione che è entrata nel calendario degli eventi, quelli più importanti. È uno di quegli eventi ad Arezzo che o lo ami o lo odi, no? C'è gente che aspetta tutto l'anno per venire, c'è gente invece che ne parla tra piccolette male. Ma questa è la caratteristica, secondo me, principale degli eventi grandi, quelli che comunque movimentano e che quindi si portano comunque dietro anche dei disagi. Quest'anno la Fondazione, tra l'altro, ha deciso di essere presente anche per promuovere sia la città del Natale che la Fiera Antiquale e che le nostre bellezze, perché secondo noi dobbiamo sempre più fare sinergia. Quando c'è un evento che porta comunque migliaia di persone va utilizzato anche per promuovere gli eventi successivi in città. Quindi, secondo me, questa è una strada che ci aiuterà comunque ad aumentare sempre più le presenze. Si tratta infatti di un'occasione non solo per degustare prodotti provenienti da altre parti del mondo, prodotti locali, ma anche per far conoscere la città. Sì, tra l'altro negli ultimi anni ha cambiato un po' pelle perché all'inizio erano principalmente prodotti di fuori, invece negli ultimi anni sempre più attività locali hanno deciso ovviamente di sfruttare questa vetrina. Quindi è un po' un mix sia per chi vuole provare i nostri prodotti sia per chi vuole provare qualcosa di diverso. Grazie.